Con il nuovo progetto Waterfront hanno deciso di abbattere l'anfiteatro, che cosa ne pensa? Sono d'accordo, mi sembra una bellissima idea perché lo spazio che ne verrà fuori sarà più utilizzato dalla gente perché spesso io passo la mattina col cane e lo vedo inutilizzato e le biciclette oltretutto che passare sul bordo rischiano anche di cadere dentro e di farsi anche male perché quando c'è troppa gente questo potrebbe cadere Secondo me era meglio lasciare le cose come stavano perché era una delle poche cose che aveva una funzione qua a Fano Penso che se uno deve cambiare deve ristrutturare il lido perché il lido è veramente brutto mentre invece qua la Sassonia mi sembra che bene o male le cose funzionino e non è per niente male Pensa che avrebbero dovuto, visto uno stravolgimento tale, ascoltare il pensiero dei cittadini? Penso di sì, se il cittadino ragiona bene, come me per esempio, sì, altrimenti no, comunque penso di sì, chiaro Quando si canticchia una rotonda sul mare di Fred Bongusto viene in mente la nostra rotonda Eh sì, è bellissima, era bella, adesso hanno cominciato a distruggerla perciò non c'è più, ormai non esiste più quella Stanno lavorando e i lavori ormai sono andati avanti perciò la rotonda sparisce Fa male, fa male Fa male, fa male, sì, dispiace perché noi siamo tutti i giorni qui al mare, capito? Ecco sì Aspetto che i lavori siano finiti per giudicare Progetto Waterfront, demolizione dell'anfiteatro, che cosa ne pensa? Non ne penso bene, sa che noi siamo cresciuti con la vecchia rotonda Vedremo alla fine, comunque al momento non mi soddisfa Sono 60 anni che siamo qui al mare, non c'è di più, quindi vedete molto tutto e non va bene Sembra che toglie anche la spiaggia libera, una troncatura troppo brutta Pensa che avrebbero prima dovuto sentire il parere dei cittadini? Penso anche io, perlomeno, avrebbero un'idea di quello che pensava la gente Io non voglio essere sempre disfattista, che fanno male, vediamo quanto è finita Allora possiamo giudicare se hanno fatto un lavoro fatto bene o fatto male Diventerà un altro ex, non lo chiamerò più il Waterfront Sarà sempre la ex rotonda, sarà quindi un altro ex Con la demolizione dell'anfiteatro si cancellerà un'icona della Sassonia, che cosa ne pensa? Per me è stato uno sbaglio cancellarla e ormai eravamo tutti legati a un ricordo Quindi è contrario? Sì, sì, assolutamente Funzionava, erano in buone condizioni Per me è stato uno spreco inutile, si potevano spendere i soldi in un'altra maniera Quando si diceva dove vai alla rotonda, e poi che direi, mandiamo al quadrato?